Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla raccorda autostradale di Avellino fino a sabato 30 giugno per lavori carregiata ridotta tra le uscite sull'Ofre e Montoro Nord in direzione Fisciano. Sulla strada statale 7 Appia fino alle ore 18 del 22 maggio per lavori attiva la riduzione di carregiate in corrispondenza del cavalcavia Macchia dei Meruli nel tratto compreso tra le località Salsa Erpina e Volturare Erpina. Sulla strada statale 7 Quater Domiziana per lavori carregiata ridotta fino alle 17 di martedì 15 maggio tra le uscite Mondragone e Pesco Pagano in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Salerno fino alle 6 del 26 maggio per lavori chiuso il tratto compreso tra le rampe d'uscite e d'ingresso dello svincolo fratte in direzione nord. Per queste ed altre informazioni vi rimando al nostro sito. L'indirizzo è www.muoversi.regione.campania.it. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore.